Era doveroso ripristinare subito un importante appuntamento della tradizione e dell'identità della nostra città come quello della Giobbia e accanto al tradizionale momento dei falò faremo anche l'altrettanto tradizionale risottata in piazza. La novità sta nell'ubicazione di questa risottata che quest'anno trasloca da piazza San Giovanni a piazza Vittorio Emanuele II che è una piazza sulla quale abbiamo preso l'impegno già da un po' di tempo di fare degli investimenti in termini di eventi perché è una piazza recente, è una piazza che merita, è una piazza sulla quale si affaccia il nostro museo, uno dei nostri musei, il Palazzo Cicogna, si affaccia la nostra biblioteca e ci sono alcuni spazi che vorremmo valorizzare e quindi la risottata quest'anno la faremo lì così come abbiamo già in calendario di portare altri eventi come per esempio il mercato cittadino in tre delle quattro quinte domeniche di questo 2023 ma è solo l'inizio. Intanto accogliamo volentieri tutta la cittadinanza che si stringe attorno alle proprie radici, alla propria identità e riscopre dopo due anni di assenza il senso dell'essere una comunità. Quando, dopo due anni di limitazioni, l'ultimo giovedì di gennaio a Bustarsizio si riaccenderà la secolare e attesissima tradizione del falò della Giovia che, mandando a rogo il fantoccio di paglie stracci, dovrebbe bruciare l'inverno e i guai del passato, ci saranno anche le telecamere di Rete 55. La festa tradizionale più amata dai bustocchi sarà infatti protagonista dello speciale in onda sul canale 88 venerdì 27 gennaio alle 21.30.